Eccoci a un nuovo sfogliatopo, quello dedicato alla saga originale di Sandopaper, costituita dalla Perla di L'Aguan di Michele Gazzarri e Giovanni Battista Carpi, pubblicata sui numeri 1096 e 1097 di Topolino, e quindi il secondo capitolo del solo Carpi, pubblicato sul 1679, ovvero Le Due Tigere. Non avendo i Topolini, originali della Perla di L'Aguan, ho deciso di realizzare lo sfogliatopo di questa prima storia utilizzando il grande classico Disney seconda serie numero 8, visto che è una edizione decisamente molto bella e in qualche modo un pochino più maneggerevole di quella uscita su Topolino Story, quello dedicato al 1976. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Invece per quel che riguarda le due tigre ho il topolino di uscita della storia per cui ho potuto utilizzare proprio la prima edizione della storia. Vi lascio quindi allo sfogliadopo ricordandovi di iscrivervi al canale. Buono sfogliadopo a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.